Erano specializzati nei furti in abitazione in tutto il nord-est. Una banda di Roma è stata arrestata dalla squadra mobile mentre era intenta a svaliggiare una casa nel quartiere palestro di Padova. La tecnica era semplice e rodata, giravano in auto patugliando i quartieri residenziali, poi le due donne venivano scaricate vicino alle case vuote e l'uomo autista si allontanava e parcheggiava l'auto poco lontano in parcheggi più affollati per non dare nell'occhio. I tre arrestati sono tre Roma di origine croata, sono accusati di aver commesso furti tra le province di Padova, Venezia, Ferrara e Pordenone. A gennaio erano stati fermati a Sastino di Livenza perché a bordo di un'auto sospetta. I tre sono ritenuti responsabili di aver derubato alcuni anziani con la tecnica della braccia e di aver razziato delle abitazioni nel Trevigiano. La banda si spostava in continuazione dormendo in auto o in hotel. Quando entravano nelle case razziavano soprattutto gioielli e alcuni monili sono stati rivenduti ai comprooro, da cui i poliziotti sono risaliti ai furti compiuti nei primi di marzo a Mestrino e Sastino di Livenza. Giovedì la squadra mobile li ha intercettati e pedinati a Padova. Le due donne hanno cercato di entrare in un appartamento credendolo vuoto, ma l'anziana proprietaria era in casa e ha urlato. In quel momento i poliziotti hanno fatto eruzione e bloccato le ladre mentre tentavano la fuga. Fermato anche il complice autista che le stava aspettando nel parcheggio di un supermercato.